Protessa e Italy in piazza Cagliari partire dalle 11 di fronte al Consiglio regionale, manifestazione organizzata dall'USB per chiedere ai rappresentanti regionali conto degli impegni e delle responsabilità prese nei confronti dei lavoratori negli ultimi anni. Secondo il sindacato, ITA, nata dai ceneri di Alitalia, è un progetto nato fallimentare, monco e che inoltre fa carne da macello dei diritti dei lavoratori. La richiesta è che lo Stato dovrebbe realizzare a fronte di ingenti risorse pubbliche e di una crisi di settore drammatica un progetto per una vera compagnia di bandiera in cui possano trovare collocazione ai lavoratori espulsi. Grazie a tutti!